Il Silent Fitness Solidale si conferma una festa di sport e altruismo. Daniela, da chi è stato organizzato e quando si svolgerà? È stata organizzata dal Comitato Croce Rossa di Fano. Si svolgerà l'11 di giugno, quindi vi aspettiamo tutti in piazza 20 settembre. È una camminata a suon di musica, ma silenziosa, perché ci sono le cuffie. Quindi ognuno sente la musica, si muove al ritmo di musica, ma nello stesso tempo non disturba passando. E c'è stata una bella collaborazione tra associazioni? Sì, perché abbiamo chiesto il supporto ad ASI, quindi mi è venuto fuori un bel lavoro in sinergia. Che cosa verrà distribuito? Allora, noi distribuiremo uno zainetto e una boraccia, perché abbiamo chiesto all'ASET di metterci a disposizione un erogatore con l'acqua. Quindi praticamente ogni partecipante prende e riempirà la sua borracina con l'acqua e poi partirà. Jacopo, a che ora sarà l'appuntamento? Allora, l'appuntamento per la terza edizione del Silent Fitness sarà domenica 11 giugno alle ore 8.30 in piazza 20 settembre. L'accredito quindi 8.30 per poi partire verso le 9.30. Il percorso, accessibile a tutti e a tutte le età, sarà Centro, Mare e Centro. Durante il percorso faremo due o tre spot di attività fisica dove ci fermeremo e gli istruttori che guideranno il gruppo faranno fare degli esercizi. Per poi appunto tornare in piazza 20 settembre per le 10.30-11 circa e salutarci. Com'è possibile iscriversi? È possibile iscriversi visitando i siti internet della Croce Rossa e di Asi Pesaro Urbino oppure le pagine Facebook sempre di Croce Rossa Comitato di Fano e Asi Pesaro Urbino tramite i form Google.